Ciao a tutti, innanzitutto chi non mi conosce, a parte loro due che mi conoscono già, io sono Marco Vino. Ciao. Allora, quest'oggi facciamo una sessione veloce per introdurre la Azure Cloud Shell. E quindi come possiamo utilizzarla per gestire al meglio le risorse delle nostre sottoscrizioni, comunque le nostre risorse cloud. Allora, prima di partire, due veloci parole su di me. Io mi chiamo Marco Vino, appunto lavoro in Softgem, sono un advisor engineer, mi occupo di consigliare i clienti e disegnare e implementare le soluzioni che proponiamo loro. Lavoro su tecnologia Microsoft un po' a tutto tondo, ma tendenzialmente sono un appassionato di Azure e di SQL Server. Qui trovate i miei riferimenti, il handle Twitter, piuttosto che il repository GitHub, dove poi vado a pubblicare le demo che vedremo, e il mio profilo LinkedIn. Allora, abbiamo detto, quest'oggi parliamo di Cloud Shell. Vediamo che cos'è e che cosa può fare. Sostanzialmente, perché parliamo di Shell? Perché gestire una sottoscrizione complessa, o più sottoscrizioni come può capitare a me, diciamo in attività consulenziale, tramite portale, può essere un bagno di sangue. Se dobbiamo eseguire operazioni ripetitive, mi viene in mente creare le regole su Network Security Group, user-defined route, pool bilanciati sui load balancer, a saltare da una blade all'altra c'è da ammazzarsi, insomma. Dopo un po' la produttività viene a mancare. Decisamente è meglio procedere tramite scripting. Da questo punto di vista, ARM, l'Azure Resource Manager, il modello di gestione delle risorse attualmente implementato in Azure, è molto pratico perché espone resource provider che consentono di governare le risorse tramite chiamate REST API e questo ha aperto la possibilità di creare strumenti di gestione più disparati. Diciamo, quelli base più comuni sono la CLI di Azure, per avere un'esperienza d'uso Linux-like, piuttosto che il modulo PowerShell dedicato per la gestione delle risorse, per chi arriva come me da un mondo più Windows-oriented e quindi mi trovo più a mio agio col mondo PowerShell. Che cos'è la CloudShell? Perché potremmo aver bisogno della CloudShell anziché usare questi strumenti direttamente dal nostro portatile? Allora, la CloudShell è una shell browser-based, viene aperta nel contesto del proprio browser, quindi questo lo rende un strumento multipiattaforma. ci dà la possibilità di accedere a un ambiente preconfigurato e autenticato sulla sottoscrizione dove vogliamo operare. Quindi non abbiamo più l'onere di dover manutenere il nostro ambiente aggiornando i moduli di gestione, piuttosto che non abbiamo più l'onere di doverci autenticare sulla sottoscrizione in cui vogliamo andare. Di nuovo, nel mio contesto dove salto da un cliente all'altro, se non si sta attenti, si corre il rischio di creare risorse dove non si deve, sostanzialmente. Questo ambiente preconfigurato è appoggiato a una virtual machine Linux, in questo momento Ubuntu 16.04 LTS, con a bordo PowerShell Core. Quindi un'unica VM è in grado di garantirci un'esperienza basata su Bash, piuttosto che un'esperienza basata su PowerShell. Lo scegliamo noi in fase di richiesta della CloudShell. La macchina su cui operiamo è una macchina che viene creata on demand quando richiediamo la shell e dopo 20 minuti di inattività viene distrutta. Per far sì che quello che andiamo a creare sulla VM venga persistito, dobbiamo appoggiarci a un Azure File Share. Quando apriamo la CloudShell la prima volta, dobbiamo creare un Azure File Share dove verrà persistita la nostra directory home e verrà creata una folder Cloud Drive che possiamo utilizzare per fare interscambio tra la nostra macchina locale e la virtual machine della CloudShell. Cosa interessante è la gratuità del servizio. È un servizio gratuito ed è particolarmente interessante paragonandolo a una virtual machine che possiamo distribuire all'interno della nostra sottoscrizione a uso console. In quel caso noi paghiamo i costi di compute, paghiamo i costi di storage e tutto quanto concerne. In questo caso la virtual machine è completamente gratuita. Andiamo a pagare solo la componente di storage che impegniamo, che tipicamente sono qui squiglie. Cosa ci possiamo fare? Ci possiamo governare i nostri ambienti cloud. Lo facciamo, qui io declino la sessione nel mondo PowerShell perché è quello a me più congeniale, ma sotto Bash con la CLI e quant'altro possiamo ottenere più o meno gli stessi risultati. Si tratta solo di gusti personali alla fine. Su, all'interno di PowerShell possiamo trovare moduli già precaricati, il modulo AZ, il modulo di gestione di Azure Radice, il modulo di gestione di Power BI, piuttosto che di Office 365. E abbiamo accesso comunque alla PowerShell Gallery. Tramite un install module o un install script possiamo tirare giù contenuti dalla PowerShell Gallery. Quindi possiamo customizzare il nostro ambiente. Viene generato all'interno della CloudShell un Azure Drive basato su un provider di PowerShell che sostanzialmente ci espone il contenuto della nostra sottoscrizione come se si trattasse di un file system. Possiamo navigarlo con comandi DOS-like, diciamo. All'interno sempre della virtual machine troviamo ulteriori tool di controllo di containerizzazione, piuttosto che editor di testo, piuttosto che gestione del versionamento del codice e quant'altro che ci aiutano nella nostra operatività. Questo è uno strumento tendenzialmente universale perché avendo io una CloudShell basata su PowerShell nessuno mi vieta di caricare all'interno il modulo di gestione di AWS per PowerShell Core e quindi caricandolo quello all'interno della mia Azure CloudShell io posso governare ad esempio risorse su AWS, quindi cross cloud provider. Nella Shell sono supportati i linguaggi riportati all'interno di questa tabella e abbiamo diversi punti di accesso per accedere a questo strumento. Possiamo passare direttamente dal portale di Azure piuttosto che possiamo invocare la URL shell.azure.com vedremo come accedervi dalla mobile app che funziona sotto iOS o sotto Android possiamo interagire con Visual Studio Code e è molto interessante lavorare direttamente dalle pagine della documentazione della CLI piuttosto che dei moduli PowerShell o da Microsoft Learn. Vedremo come side by side si apre una finestra di console all'interno del quale possiamo provare live il codice che leggiamo nella parte di documentazione. Una cosa molto chiara tutto il giro quando io diciamo si faccio questa parte di autoistruzione utilizzando gli endpoint che stanno nell'edit e nell'edit PowerShell document guardo in qualche maniera a utilizzare anche lo storage e questo risposto dove potete vedere come è fatto? Sì, quando tu apri lo vediamo dopo ma quando tu premi il bottone try it ti fa fare la login con il tuo account Azure e di conseguenza ti mette nel contesto della tua sottoscrizione e nel contesto della tua sottoscrizione avrai la tua CloudShell che punta alla tua Azure FileShare quindi vedi il tuo ambiente sostanzialmente provi in casa tua, ecco. Allora, direi che di parole ne abbiamo fatte a sufficienza andiamo a vedere dal vivo come funziona. Allora, accediamo alla CloudShell banalmente cliccando sul bottoncino magico. Io qui mi sono sganciato dalla mia esperienza utente tipica quindi ricomincio da capo come se fosse la prima volta. Mi viene chiesto se voglio andare in Bash o in PowerShell questa opzione è poi diciamo gestibile a posteriori anche questa diciamo la preferenza con cui partiranno tutte le CloudShell scelgo la mia sottoscrizione e se faccio Create Storage mi crea uno storage account con dentro una file share con dei nomi diciamo quelli belli con quei guidi immensi in fondo. Se facciamo Advanced abbiamo la possibilità di utilizzare invece nomi un po' più cristiani. Nel mio caso io ho già tutto pronto e quindi mi aggancio a uno storage preesistente. Ora, mi viene creata la VM per la prima volta è un processo che dura qualche secondo poi normalmente a runtime è molto più veloce l'accesso alla CloudShell. qui si sta collegando sta generando la mia VM Linux con a bordo la PowerShell. Allora, tanto vi racconto qualcosa qui ci troviamo tanto la finestra è ridimensionabile sufficientemente grande il testo mi sembra di sì allora qui abbiamo la possibilità di saltare da una sessione all'altra viene generata sostanzialmente una nuova istanza di macchina in Bash se passiamo a Bash che condivide comunque l'Azure FileShare per cui i file li vediamo sia da una parte che dall'altra. Abbiamo un tasto per riavviare l'esperienza utente quindi resettare il tutto se ci si incarta abbiamo un minimo di configurazione per font size e il tipo di font e altri bottoni che vedremo strada facendo. Quando si apre la shell ci troviamo dentro quell'Azure Drive che vi dicevo consente di navigare la sottoscrizione come se fosse un file system se io qui faccio un dir vedo le sottoscrizioni di cui ho visibilità con questo account con cui sono logato entro nella mia di sviluppo e da qua posso vedere le virtual machine entro in resource group e vedo i resource group che ho sulla sottoscrizione voglio fare un'esportazione posso utilizzare i comandi PowerShell qui cosa abbiamo a bordo abbiamo un po' di moduli già precompilati ci sono i moduli az moduli di gestione di Power BI e c'è anche un modulo che avevo caricato io di mia sponte dalla PowerShell Gallery di via tools per la gestione dei database ora ad esempio io sono in questo contesto se faccio un get meno az vm mi torna le vm contenute in questo contesto se io scendo ancora di un livello e vado ad esempio nel resource group che ho dedicato all'evento di oggi e faccio ripeto il comando senza qualificare la zona o senza filtrare l'output lui automaticamente mi torna solo gli oggetti contenuti nel contesto in cui mi trovo quindi è un po' più pratico rispetto a continuare a filtrare partendo dalla radice ecco come siamo abituati a fare vogliamo fare un'esportazione banalissima facciamo un get child item lo mettiamo in pipe con un out file verso lista vm punto txt ecco lì ah no scusate bisogna qualificare giustamente il path non posso scrivere dove mi trovo adesso sostanzialmente non sono in condizione di scrivere per cui devo puntare alla mia home directory per fargli fare il file se adesso mi sposto sulla home directory troverò il mio lista vm posso fare banalmente un type c'è il contenuto posso esportare il file ecco che dovrebbe partire il download open e qui mi sono tirato giù il file me lo sono portato in locale sulla mia macchina questo è un esempio stupido ma rende l'idea di che cosa ci si può fare allora siamo entrati nella home directory come porto oggetti all'interno della cloud shell ad esempio posso fare una cosa stupida tipo aprire una picture e fare un drag and drop all'interno della finestra di cloud shell questo me lo carica all'interno della mia home directory in alternativa posso utilizzare questo menu per fare upload con un po' di pazienza upload da disco piuttosto che download dove devo fornire l'fqdn del file nella mia home directory e lui lo scarica giù al par di quanto ho fatto prima con l'export file in alternativa posso andare a gestire direttamente la file share su cui è attestata la mia cloud shell se governo da qua sostanzialmente cosa ho? nella root directory della file share io vedo una folder che mi viene montata all'interno della shell come cloud drive se vado qui dentro a creare una folder me la ritrovo dentro la macchina quindi posso uploadare file all'interno di questa di questo mount point cloud drive tramite az copy az storage explorer chi più ne ha più ne metta tutto il resto invece che scrivo nella root della mia home directory viene archiviato all'interno di questo file img cioè un'immagine da 5 gigabyte che rappresenta la mia home directory sostanzialmente quindi quello che è nella root della mia home directory non ho una visibilità diretta devo passare prima per la cloud drive altre cose che posso fare posso sfruttare gli strumenti che ho in dotazione a bordo per ad esempio clonare un repository git se riprendo il controllo git clone se ci ho preso si tira giù il contenuto del mio repository con le demo ora da qua poi cosa posso fare ad esempio posso andare a fare editing di file posso utilizzare questa versione ridotta diciamo di visual studio code per andare a fare editing direttamente dentro la cloud shell quindi posso posizionarmi all'interno ad esempio del mio repository posso andare a vedere un json posso fare editing con il supporto di syntax highlighting e quant'altro posso modificare i file se non mi piace questo editor posso usare vi ai piuttosto che i max sono disponibili posso ad esempio diciamo che non è uno strumento per scrivere granché ma ad esempio potrei modificare un parameter file di un template arm senza problemi e posso poi mandare in esecuzione copiandomi la stringa magari apro un'altra sessione per non intruparmi con questo bottone apro una sessione in parallelo così di là posso continuare a lavorare con calma e qui lancio un deployment di un arm template tenete presente che qui abbiamo un time out di sessione a 20 minuti se lanciamo operazioni interattive potrebbero essere troncate da un momento all'altro nel caso del deployment di un arm non è un problema perché fatto questo sostanzialmente poi stiamo parlando con resource provider quello si prende in carico il template e lo deploya ma se facciamo attività diciamo long running activities potremmo avere dei problemi è più pensata per attività spot di amministrazione mentre mentre quello parte dovrebbe dopo un po' get job resi job vediamo se ha finito non ha ancora finito lo posso far vedere da qua l'idea l'idea è che l'idea è che poi io da qui posso accedere alle mie risorse per esempio con il template che ho lanciato prima ho generato un Azure SQL database vediamo se nel frattempo è finito ma che ovviamente quando hai bisogno effetto demo allora se adesso vado a prendermi la connection string del mio Azure SQL database posso fare attività da dentro la cloud shell verso il Azure SQL database ovviamente devo crearmi le aperture del caso a livello di di porte e di quant'altro ecco close editor così abbiamo un po' più di spazio posso ad esempio utilizzare quel modulo dba tools che avevo caricato in precedenza fare un get dba database sql instance e se tutto va come deve o mi sono fatto tornare la lista di database dalla cloud shell verso Azure SQL database questo è una cosa che può essere d'aiuto per fare un intervento al volo capire come sta andando interrogare lo stato di una risorsa altre cose che posso fare qui a bordo ho ho la ho l'applicazione ssh mi posso collegarmi in ssh su una vm linux per esempio passando tramite il suo ip pubblico nelle demo ho preparato uno script che genera una vm qui in realtà l'ho già pregenerata per raccorciare un po' i tempi ci vuole qualche minuto e mi dà la sua connessione tramite la quale posso agganciarmi in ssh direttamente sulla vm eccoci qui siamo in sbagliato si vede che non sono molto linux oriented però posso uscirmene con un fantastico powershell e andare avanti così dritto come se fosse un fuso e lavorare in un ambiente che mi è decisamente più congeniale sotto linux e vado avanti così a botte con le cose con cui sono abituato quindi da qui possiamo raggiungere una sessione ssh tutto questo lo facciamo verso una macchina con ip pubblico perché no perché comunque il contesto della cloud shell è fuori da qualsiasi delle tue vinette la vm che ospita la cloud shell non è attestata una tua vinette non può sapere a priori su quale vinette vuoi operare quindi non sa dove metterti devi passare da fuori per forza questo contesto di remoting lo possiamo fare anche in ambiente windows c'è un modulo di powershell che fa questo mestiere nella vita e sostanzialmente riporta comandi che normalmente tipo l'invoke command che normalmente abbiamo in powershell per eseguire un comando su una macchina remota è stato preparato un invoca z command dobbiamo ricorrere a questo enable la z vmps remoting che va a creare le condizioni necessarie affinché io possa invocare passando sempre per ip pubblico in comando sulla macchina remota apre le porte attiva i servizi e quant'altro dopodiché io posso prendere bellamente la mia cloud shell incollarci dentro il mio comando e collegarmi alla macchina remota per eseguire codice arbitrario se non ho sbagliato la password qui ho fatto un dirci due punti con un po' di calma dovrebbe andare eccolo qua io ho interrogato la mia vm sql server remota cos'altro posso fare posso aprire una sessione interattiva con calma aprendo una sessione interattiva sostanzialmente ottengo l'effetto che ho ottenuto facendo ssh verso la macchina linux di prima questi comandi funzionano sia con vm windows che con vm linux ora io ve lo faccio vedere l'esempio linux perché con scusate windows perché con linux abbiamo già l'ssh che è una sovrapposizione da un certo punto di vista però si può fare anche con quelle cos'altro posso farvi vedere velocemente vi posso far vedere che ad esempio se andiamo a sfruttare qui i dev in sala mi potrebbero insultare perché sto facendo una cosa che non conosco minimamente possiamo sfruttare i linguaggi di programmazione che ci sono a bordo macchina per generare un'applicazione .net al volo e mandarla in esecuzione all'interno della cloud shell allora possiamo fare questo genererà lo scheletro di un'applicazione .net e la manda in esecuzione è running eccolo qua è operativo a questo punto posso usare quest'altro bottoncino restore success no non è ancora operativo comunque questo sostanzialmente attiverà la web app sulla porta 2226 in locale qui dentro la cloud shell posso usare quest'ultimo bottoncino che mi fa vedere la web preview vediamo se è già partito non è ancora partito ma dovrebbe arrivare eccola lì ed ecco qua la nostra web app che gira nel contesto della cloud shell quindi qui basta poi trovarci uno scopo nella vita questa roba però si può fare anche questo ultime cose allora abbiamo detto punti di accesso diversi per la cloud shell oltre a gestirla tramite portale o tramite la url dedicata possiamo passare ad esempio dentro visual studio code da qui tramite l'estensione azure account possiamo aprire possiamo aprire la cloud shell direttamente all'interno di visual studio code quindi puoi eseguire codice da qua dentro senza necessità di passare da fuori questa parte che va bene scrivo sempre nel posto sbagliato questo è relativamente comodo ci vuole un po' più di tempo da qua però funziona altri punti interessanti abbiamo detto si può passare da si può passare vediamo dove sta la nostra default directory vabbè potrebbe andare bene questo si può passare tramite la documentazione questa è una pagina della documentazione ufficiale della cloud shell ho schiacciato il bottone prova viene aperta la cloud shell qui side by side e io posso fare copia e incolla del codice provarlo un ultimo approccio è quello di android se funziona ancora ad esempio qui io su android ho la mia si è incartato tutto scusate riprovo avvio eccoci qua ad esempio tramite l'applicazione azure per android diciamo non è che si possa fare chissà che cosa a me capita più di una volta di dimenticare vm accese di test che consumano credito e le devi spegnere da remoto che fai? con l'app le puoi spegnere ma le spegni una alla volta è un po' laborioso qui se adesso funziona il tutto faccio vedere come si può lanciare la cloud shell e avere un'esperienza utente al pari di quella che abbiamo via browser portare pazienza attendere prego prima regola dell'informatica eh no devo tenerlo in wifi per proiettare lo schermo era la combo migliore che ho trovato a costo zero per farlo quindi state bene comunque con pazienza arriva ora da qui pensare di aprire la mia tastierina di android per digitare comandi powershell fa caldo si fa perché si fa tutto nella vita ma fa caldo però se voi siete smart e vi preparate dentro il cloud drive dei run book degli script powershell non dovete far altro che invocarli è bello che è fatto il discorso ecco insomma a parte che get un po' di pazienza arriverà anche replicato funziona anche da qua funziona da qua funziona sotto ios quindi è uno strumento di gestione universale secondo me è veramente una cosa interessante ecco come come strumento bene torno sulle slide per chiudere vi lascio con qualche informazione qui c'è un la documentazione ufficiale c'è un bel blog post di thomas maurer che spiega più o meno le cose che vi ho raccontato io oggi e trovate le demo su questo repository github grazie di tutto e buon proseguimento di giornata se avete qualche domanda sono qua liberissimi grazie